Natale, guardo il presepe scolpito dove sono i pastori appena giunti alla povera stala di Betlemme. Anche le immagini e le lunghe vesti salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure in legno, ed ecco i vecchi del villaggio e la stalla che risplende e l'asinello di colore azzurro. Pace nel cuore di Cristo in eterno, ma non ve pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo, e sono venti secoli, il fratello si scaglia sul fratello. Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino che morirà poi in croce fra due ladri? Grazie a tutti.